Mr. Calori, direi che il gol dell'1-0 di Convitto a pochi secondi dall'intervallo forse ha cambiato e spostato gli equilibri di questa partita che fino a quel momento la sua squadra stava giocando con Buonpiglio, d'accordo? Sì, assolutamente sì. Siamo venuti ad Arezzo a giocarcela, come la giochiamo con tutti, nel senso cerchiamo di... non è che ci schiacciamo in area di rigore perché loro sulla carta sono più forti, però dispiace perché proprio su questa caratteristica magari ci abbiamo poi preso il gol dell'1-0, ci è già capitato con Livorno, però siamo stati bravi nel tenere campo ad Arezzo della squadra non ne parliamo neanche perché insomma è veramente tanta roba, però abbiamo fatto il nostro calcio anche sul 2-0 e quindi sono orgoglioso di loro perché hanno tirato fuori il meglio, peccato perché sotto certi aspetti bisogna sempre limare queste caratteristiche che ultimamente ci stanno un po' penalizzando un po' troppo secondo me perché il gioco ne facciamo ma poi dopo il prodotto magari è poco. Perché la scelta di giocare 3-5-2 è un modulo che tra l'altro ha dato qualche fastidio all'Arezzo, no? Che nel primo tempo soprattutto non è riuscito a proporre il gioco con la consueta fluidità. Ma i moduli ci sono e non ci sono, dipende poi come ti difendi e come attacchi, quindi da fuori magari uno vede un modulo in campo poi è un'altra cosa nel senso che ci sono sempre le due fasi, noi lavoriamo molto su queste però sì ovviamente siamo partiti con un 3-5-2 poi c'è una fase difensiva e una fase offensiva, in base alle squadre che affrontiamo cerchiamo sempre poi di mettere in difficoltà le loro caratteristiche che hanno, cioè l'Arezzo è votata a fare gol, è votata ad attaccare, è normale che lascia qualche spazio in più, non che la difesa sia da meno però se queste caratteristiche riusciamo poi a metterle in evidenza, in chiaro, è normale che possano venire fuori delle azioni importanti. Abbiamo cercato di farlo, potevamo fare molto meglio, però poi sono soddisfatto, ripeto, della prestazione e ripartiamo da lì anche perché per noi era importante fare una grandissima prestazione e c'è stata e bisogna partire poi da questo risultato che anche è amaro e ce lo dobbiamo ricordare per le prossime partite che inizia un campionato diverso per noi perché Livorno e Arezzo diciamo che sono fuori dalla nostra portata anche se abbiamo dimostrato in campo di meritarci qualcosa di più. E chiedo un parere su Manchia, su Malocu, su Castaldo che sono giocatori in prestito dall'Arezzo, come stanno andando e come è stato l'impatto con questo campionato? Per quanto riguarda Damiano, Manchia e Rai a Malocu sono arrivati con noi sin dall'inizio, li avevamo visti come Thomas, Castaldo, però sono aggregati sin dall'inizio quindi Thomas ha bisogno ancora di ingranare, sia di Damiano che di Ryan sono due giocatori secondo me molto molto importanti per l'età che hanno e per la qualità che hanno anche in campo. Ryan ha trovato un po' di spazio in questo momento, è un ragazzo molto duttile, può fare molti più ruoli e questi ragazzi nel futuro li hanno nelle loro mani se vogliono fare giocatori. Quelli che non lo vogliono fare, qualsiasi età sia, è difficile che giochino con me o a Terranova poi io ci sono o non ci sono, quello cambia poco, ma i ragazzi giovani se hanno la voglia di fare giocatori, lo stanno dimostrando, possono fare giocatori e siamo contenti perché con l'Arezzo c'è stato anche questo accordo, insomma sin dall'inizio siamo contenti di avere anche dei ragazzi che sono le proprietà dell'Arezzo insomma quindi è stata questa anche amicizia che c'è con Nello Cutulo e anche con il direttore Giovannini fuori dal campo ovviamente perché in campo ci si fa la guerra però ci ha affruttato anche dei buoni giocatori.